Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che come di consueto apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sale infatti di due punti percentuali rispetto alla giornata di ieri la percentuale dei positivi nella nostra regione. Sono infatti 314 nuovi contagi in Abruzzo pari all'8,04% con 9 vittime che portano il bilancio a 1.300. Tornano a salire i dati dell'emergenza coronavirus in Abruzzo. Sono 314 infatti nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 3.905 tamponi. È risultato perciò positivo l'8,04% dei campioni. Si registrano 9 decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale a quota 1.300. In aumento gli attualmente positivi. A fronte di un lieve calo dei ricoveri complessivi, che passano dai 516 di ieri ai 508 di oggi, aumentano le terapie intensive. Dei nuovi positivi il più giovane ha 6 mesi e il più anziano 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 36. 5 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. I 9 decessi, 3 dei quali risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL, riguardano persone di età compresa tra i 59 e i 102 anni. 5 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 37 in più, per un totale di 11.216. 468 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 40 più 2 al netto di dimissioni, decessi e 5 nuove ricoveri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.708 più 87 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 25.823 più 226. La località con più nuovi casi è San Salvo, 22, seguita dall'Aquila e Pizzoferrato, entrambe con 17 contagi, 15 nuovi casi a Montesilvano e 14 a Pescara. Dei 38.339 casi complessivi in Abruzzo, 11.582 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 56 rispetto a ieri, 8.366 in provincia di Chieti, più 142, 7.752 in provincia di Pescara, più 60, 10.152 in provincia di Teramo, più 48, 325 fuori regione, più 7 e 162, più 1, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Altri numeri adesso, quelli che riguardano lo screening di massa nella provincia di Pescara, perché ad oggi risultano effettuati 29.349 tamponi rapidi, 88 dei quali hanno avuto esito positivo. A Città Sant'Angelo e Delice sono stati effettuati 2.838 tamponi con 14 positivi, a Colle Corvino 1.169 tamponi con 18 positivi, a Cepagatti 1.678 tamponi un positivo, a Montesilvano 3.976 tamponi 12 positivi, a Penne Villa Celiera 2.668 tamponi un positivo, a Torre dei Passeri con Bolognano Castiglione a Casauri e Pesco Sanzonesco 629 tamponi, nessun positivo, a San Valentino con Abbateggio, Rocca Morice, Sante Eufemia a Maiella e Salle 1.054 tamponi, nessun positivo, a Manopello 1.161 tamponi, nessun positivo, a Pescara 5.389 tamponi, 16 positivi, a Popoli 1.269 tamponi, 3 positivi, a Scafa e Turri Bassa 434 tamponi, 4 positivi, a Letto Manopello con Turrialta e Serra Monacesca 1.262 tamponi, 1 positivo, a Tocco da Casauri a 583 tamponi, 1 positivo, a Pianella 934 tamponi, nessun positivo, a Rosciano 201 tamponi, 1 positivo, a Spoltore 3.048 tamponi, 16 positivi, a Nocciano 353 tamponi, nessun positivo, a Cugnoli con Corvara e Pietranico, 350 tamponi, nessun positivo, così come a Civitacuana e Brittoli con 201 tamponi, a Catignano con 152 tamponi, anche qui nessun caso positivo. E dalla provincia di Pescara ci spostiamo a Teramo, dove il sindaco Gian Guido D'Alberto annuncia uno screening di massa per gli istituti superiori dal 20 al 22 gennaio prossimi. D'Alberto rivolge però un appello agli studenti, i test rapidi sono utili ma inefficaci, se fuori della scuola non si rispettano le misure di sicurezza anti-Covid. Il servizio è d'Italia, Bornici Castelli. Ci siamo, dal 20 al 22 gennaio parte a Teramo lo screening di massa per le scuole superiori. Lo ha deciso e annunciato il sindaco Gian Guido D'Alberto, per il quale è fondamentale mettere il test rapido a sistema per l'intera popolazione scolastica. Il sindaco ribadisce inoltre l'importanza e la necessità di attuare la circolare emanata dall'ASL in adesione alla sollecitazione del Comitato Ristretto dei Sindaci che detta precise indicazioni sull'applicazione di misure anti-Covid e sui comportamenti da assumere nelle scuole per evitare il sorgere di focolai. Perciò anche nella veste di Presidente regionale dell'Anci, D'Alberto torna a chiedere alla Regione che lo stesso atto venga applicato nell'intero territorio abruzzese. I test rapidi per il sindaco di Teramo dovrebbero essere inseriti in un sistema permanente e continuo per garantire reale prevenzione e per assicurare la continuità dell'attività didattica. Lo screening di comunità è una fotografia della situazione, non può essere organizzato una tantum, ma va predisposto con cadenza continua, periodica, così come indicato dalle norme dell'Istituto Superiore di Sanità. Alla luce di tali considerazioni appare inevitabile, secondo D'Alberto, rivedere i protocolli. L'amministrazione comunale di Teramo ricorda che è stata la prima ad effettuare lo screening di massa a tutta la popolazione delle scuole elementari e medie. Quello alle superiori dal 20 al 22 gennaio sarà realizzato con le stesse modalità, di concerto con protezione civile e ASL. C'è poi un ultimo appello del sindaco D'Alberto agli studenti. Lo screening è utile, ma del tutto inefficace se poi fuori della scuola non si seguono le regole di sicurezza. Indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. Suggerimenti spesso disattesi da molti giovani, visto il numero elevato di sanzioni inflitto recentemente dalle forze dell'ordine. A San Salvo il sindaco Tiziana Magnacca si scaglia contro chi durante le festività natalizie non ha rispettato le regole. Al momento sono 22 i casi accertati, ma i contagi sono destinati a salire. Ascoltiamo il primo cittadino di San Salvo. Da poco tempo sono stata contattata dall'ufficio di prevenzione della nostra ASL che per le vie brevi mi ha comunicato che i casi positivi a quest'ora, in questo momento, sono ben 22 e che altri tamponi stanno processando, per cui non è detto che non escano altri casi positivi nella giornata di oggi. Sono molto preoccupata. Abbiamo cercato di capire insieme alla ASL quali fossero state le cause di questi contagi numerosi, un po' come quelli dei giorni passati, ed è emerso anche dai loro accertamenti come siano tutte riconducibili a nuclei familiari che si sono ritrovati numerosi durante le feste natalizie e soprattutto per il Capodanno. Pare che sia emersa con una certa certezza questa realtà, il che impone a tutti una riflessione doverosa, perché non è più consentito che per festeggiare, tra l'altro non rispettando le regole, violando anzi le regole e anche il buonsenso, la ragionevolezza, la nostra città debba registrare un così cospicuo numero di casi tutti insieme. È chiaro che questo non è un problema del singolo. Noi ci auguriamo che siano bene e che non abbiano conseguenze gravi. Il problema è che questi contagi si rifletteranno inevitabilmente sulla vita della nostra città e siccome la curva dell'epidemia è una curva esponenziale, mi aspetto anche altri casi nei giorni avvenuti. Cambiamo argomento adesso. L'azienda consortile acquedottistica che rifornisce i comuni tra la provincia di Pescara e quella di Chieti è stata condannata dall'autorità per la concorrenza a pagare una multa di 312 mila euro. Il comportamento di H è gravissimo, il commento del forum H2O. Giuseppe Dintino. 312 mila euro e la montare della multa a cui ACA, l'azienda consortile acquedottistica, è stata condannata dall'autorità garante per la concorrenza. Tutto parte dalla segnalazione di un ultraottantenne a cui non ridavano i conti della bolletta dell'acqua. Sono quattro gli aspetti contestati dall'autorità. Riguardano l'attivazione automatica della copertura assicurativa per le perdite occulte di acqua, la scarsa trasparenza, l'indifferenza verso i consumatori che non avrebbero voluto attivare la polizza e la mancata informazione in caso di perdite occulte. L'ACA ha attivato in maniera unilaterale un'assicurazione per le perdite post-contatore per i cittadini con comunicazioni assolutamente, secondo l'autorità per il mercato, assolutamente non congrue e non hanno messo in grado i cittadini di poter decidere in tranquillità se aderire a questa che non era un'offerta, era una decisione già presa. E poi il fatto di poter recedere solo attraverso un iter assolutamente farraginoso. Tale situazione, sostiene l'autorità, ha determinato nel corso degli anni l'accumulo di un arretrato notevole e conseguenti ritardi nella lavorazione delle stesse istanze e nelle risposte ai clienti. Sarebbe veramente increscioso se questi costi andassero a finire anche quelli in bolletta perché i cittadini pagherebbero due volte. Noi riteniamo che debbano pagare gli amministratori della società che hanno fatto un gravissimo errore che è stato appunto sanzionato dall'autorità. L'ACA presenterà ricorso al Tar del Lazio contro la decisione dell'autorità garante della concorrenza del mercato per la sanzione combinata. L'azienda fa sapere che l'autorità garante ha ritenuto di censurare l'iniziativa assunta nell'anno del 2018 dal Consiglio di Amministrazione in Carica al Tempo e consistita nell'attivazione di una copertura assicurativa per le perdite occulte subite dai consumatori. Valutato il contenuto complessivo del provvedimento, HSPA ritiene di dover avversare la decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato nelle sedi preposte e di rimettere alla valutazione dell'autorità giurisdizionale la correttezza e legittimità dello stesso. Incontro questa mattina tra i lavoratori e i collaboratori delle piscine Lenaia e dei sindacati. Sul tavolo gli interrogativi sull'eventuale riapertura della struttura chiusa dopo i DPCM anti-Covid. Sembrano esserci spiragli per la riapertura delle piscine Lenaia di che avevano chiuso i battenti in conseguenza dei DPCM del governo che avevano imposto lo stop delle attività sportive. La disponibilità del direttore generale Nazareno Di Matteo è emersa anche questa mattina nel corso di un incontro organizzato con i lavoratori e collaboratori della struttura e i sindacati. Il responsabile della manutenzione dell'enaia di Giovanni Pietrantonio ha spiegato come la struttura sia in grado da un punto di vista tecnico di poter già oggi tornare alla operatività. Le piscine sono pronte dopo la manutenzione fatta regolarmente. Le spese per riaprire l'impianto almeno agli agonisti ammonterebbero a 30.000 euro mensili e le entrate a 20.000. Per questo l'obiettivo è sulla regione per avere un contributo e far sì che non si vada sotto. Da ottobre, spiega Pietrantonio, però voglio ricordare che per noi lavoratori in cassa integrazione non è arrivato ancora nulla. Alla presenza di una trentina di maestranze all'incontro hanno partecipato anche i sindacati. Guido Cupido, segretario regionale della SLCCGL. Il momento è particolare e difficilissimo, ha detto. L'incertezza è legata anche ai DPCM e oggi sembra chiaro che al contrario di come si pensava il 16 gennaio palestre e piscine non riapriranno. Non c'è una data sulla ripartenza e questo ovviamente non ci agevola. Bisogna lavorare, lo stiamo facendo per capire come riaprire le naidi e per questo bisogna ragionare con regione, gestore, lavoratore e collaboratori. Bisogna capire quali sarebbero le capacità economiche per poter riaprire la struttura sportiva. Riaprire però in queste condizioni, ovvero solo agli agonisti, spiega Cupido, poi non permetterebbe a tutti i lavoratori e collaboratori di tornare a lavorare. In questo caso potrebbe essere prevista una turnazione del lavoro. Oggi però i lavoratori e i collaboratori sportivi sono ancora una volta l'anello debole del sistema. Un altro discorso è poi quello relativo al bando. Se non avremo però risposte dalla regione, che al momento non ha dato, siamo pronti alla mobilitazione e a manifestazioni forti sotto la sede della regione. Lucio Petrongolo della Cisla Abruzzo ha spiegato che la situazione è chiara e stiamo lavorando in primis per le garanzie dei lavoratori. La struttura è ferma da ottobre e non sappiamo cosa accadrà dopo il 16. La riapertura solo per gli agonisti è da capire, ma oggi si rende necessario un confronto con la regione e i gestori per capire quali sono le difficoltà per la riapertura e come muoversi. Perché parliamo di una struttura sportiva fra le più importanti del paese. Vogliamo chiedere alla regione, ha spiegato Petrongolo, una minima riapertura, ma immediata, per poter lanciare anche un segnale, visto che una chiusura lunga potrebbe creare danni nonostante la manutenzione ordinaria. Oggi i lavoratori dipendenti sono 11 e i collaboratori sportivi una quarantina impegnati con varie mansioni alle piscine e le naidi. In arrivo 138 nuove unità di personale negli uffici speciali per la ricostruzione, 30 dei quali per l'Abruzzo. Obiettivo? Accelerare l'iter delle pratiche di ricostruzione post-sisma del centro Italia. Alfredo Primante. Con i nuovi fondi stanziati dalla legge di conversione del decreto legge agosto e le risorse reperite dal commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, si avvia l'assunzione immediata di 138 dipendenti da destinare agli uffici speciali della ricostruzione, che vanno ad aggiungersi ai 640 degli organici attuali. Si rafforza così anche la struttura del commissario straordinario, con 12 nuove unità di personale e la nomina di due subcommissari per l'esercizio dei nuovi poteri straordinari in deroga per le ricostruzioni complesse, Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo. Dei 138 nuovi tecnici in arrivo agli USR, 72 sono assegnati alle Marche, che è la regione che ha subito i maggiori danni, 18 vanno invece a Lazio ed Umbria e 30 all'Abruzzo, che recupera così il sottodimensionamento del passato. L'intesa sul riparto delle nuove risorse è stata raggiunta ieri dai presidenti delle quattro regioni su base di una proposta del commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che tiene conto dei carichi di lavoro attesi. Su 80.000 edifici censiti, come inagibili dopo il sisma del 2016-2017, le istanze di contributo finora presentate sono 19.500. Le pratiche in lavorazione negli uffici speciali e nei comuni ed in fase di integrazione da parte dei tecnici, quindi, non ancora giunte a conclusione, sono circa 12.000. I contributi richiesti ammontano a circa 4 miliardi e mezzo di euro, quelli già decretati ad 1,5, mentre le erogazioni effettive che procedono con lo stato avanzamento lavori nei cantieri sono pari a circa 700 milioni di euro. Le priorità per il 2011, vista la mole di lavoro, sono tante. Oltre ai controlli sulle pratiche della ricostruzione privata, gli OSR dovranno gestire sul campo alcune fasi fondamentali della ricostruzione pubblica e la redazione e l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti, le opere da realizzare in deroga utilizzando i poteri speciali attribuiti al commissario. Spostati alcuni reparti della Santissima Annunziata di Chieti e i pazienti per curarsi devono andare fuori città. La ASL però non ha ancora speso la somma disposta da Roma per l'acquisto di nuovi macchinari. Pazienti teatini costretti a curarsi altrove. La sanità di Chieti è sempre più dirottata verso altri comuni e alcuni malati, anche oncologici, sono costretti a ricercare altrove cure e servizi che il Santissima Annunziata non può più fornire. Il diritto alla cura è anche alla cura con l'umanità e la comprensione delle problematiche che devono affrontare i malati che sono deboli e fragili nel momento delle cure. Per cui parlando di pazienti oncologici non possiamo mandarli a Terramo a fare radioterapie per 35 sedute perché significa rovinare proprio la vita a una persona che sta già male. E questo benché il governo abbia destinato all'Abruzzo 6,4 milioni per l'acquisto di nuovi macchinari. La somma, spartita tra l'Aquila, Pescara e Chieti, finora è stata spesa solo dal capoluogo adriatico. A noi risulta da sommarie informazioni che ci sono milioni di euro pronti per acquistare delle apparecchiature di ultima generazione. A noi risulta che ci sono dei progetti esecutivi che vanno mandati avanti affinché il percorso oncologico della ASL di Chieti venga ottimizzato. Noi con animo massimamente collaborativo ci siamo rivolti alle istituzioni, in primis al sindaco di Chieti e all'assessore che per fortuna sono anche due medici. E continueremo in questo percorso perché interpelleremo il prefetto se sarà necessario anche il procuratore della Repubblica perché vogliamo delle risposte chiare, precise e concordanti. Vogliamo soprattutto un cronoprogramma. Intanto il reparto di dermatologia va verso Ortona e quello di odontostomatologia si sposta a Lanciano. L'amministrazione comunale si schiera al fianco delle associazioni e sollecita la ASL. Occorre fare presto queste le parole del sindaco Ferrara. Insieme con le associazioni dei malati noi rivolgiamo l'invito alla dirigenza della ASL di velocizzare l'acquisto dei macchinari che sono andati incontro ad obsolescenza programmata, quindi parliamo della TAC, della PET-TAC e anche di cercare di evitare lo spostamento di reparti, di servizi come la dermatologia, l'odontostomatologia che sono e rimangono essenziali per il nostro territorio essendo anche dei reparti universitari. Adesso apriamo la pagina dello sport. Ovviamente iniziamo dalla Serie B, dal Pescara, doppia seduta odierna quest'oggi per i biancazzurri. Non c'era Andrea Di Grazia per cui è stato ufficializzato il trasferimento in prestito secco all'Arezzo. Non si registrano miglioramenti sul fronte infortunati, contro la Cremonese è difficile il recupero di Antei, Bocchetti, Balzano e Drudi. Problemi anche per Masciangelo. Sempre più probabile dunque l'impiego nella difesa a tre di Mirko Valdifiori come centrale. Ai suoi fianchi giocherebbero Gutt e Jarosinski. Omeunga gira da quinto di destra, Anzita favorito a sinistra. Sulla ripresa del campionato e sul momento personale della squadra ascoltiamo il jolly, Luca Crecco. Luca Crecco si torna dopo qualche giorno di sosta, avete staccato un po' la spina, però si riparte subito forte perché è un altro scontro diretto con la Cremonese. Sì, torniamo da tre giorni di sosta, personalmente mi sento bene, a me quando stacchiamo per tre giorni mi sento sempre bene. Adesso siamo pronti per fare una partita comunque difficile con una squadra forte che sta in classifica comunque alla pari nostra diciamo, quindi sarà una partita importantissima come saranno tutte le altre, però la stiamo provando bene perché sappiamo il valore della Cremonese e vogliamo partire bene questo 2021 diciamo. Si è parlato in tua assenza di te perché il Presidente ha detto ma Crecco ha prolungato il contratto fino al 2023, andrà via soltanto se lo vuole lui o se ce lo chiede lui, però ha speso anche belle parole nei tuoi confronti. Qual è la tua posizione da questo punto di vista? Confermi anche il rinnovo? Sì, 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 ho rinnovato l'anno scorso, non ho letto l'intervista del Presidente, però mi fa piacere le parole che si dici che sono parole positive. Io sinceramente ho passato qua i primi due mesi con Oddo che non stavo bene e quindi volevo andare via perché comunque non mi impiegava neanche negli allenamenti, quindi avevo parlato con il Presidente che io non stavo bene, però le cose poi sono cambiate, è arrivato il mister Breda con cui ho trovato spazio, un mister comunque che lavora bene, ci prepara le partite in modo giusto e mi sento comunque che partecipe nel gruppo anche se ho fatto solamente due partite dall'inizio e le altre da subentrato, però voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra e spero di giocare di più per dare davvero una mano alla squadra perché comunque vogliamo levarci da questa situazione. Prima di tutto siamo tutti un po' più considerati, secondo voi la partita viene preparata in un altro modo rispetto a prima, sappiamo con chi andiamo a giocare, prima non sappiamo con chi andavamo a giocare. È un calcio più verticale quello che vi chiede Breda? Sì, è un calcio più verticale, vuole subito la palla davanti perché giustamente il gol si fa in avanti, se torni sempre indietro è più difficile far gol, quindi più tieni la palla vicino alla Portoloro e più hai possibilità di far gol. Condivido questo pensiero del mister e mi piace l'idea sua. Avete fatto uno sforzo importante per uscire fuori dalla zona play-out, ma chiaramente siamo ancora lontani, lontanissimi dall'obiettivo. Cosa bisogna fare ora per alimentare questa risalita in classifica? Sicuramente non bisogna fare più sbagli, abbiamo fatto troppi sbagli precedentemente e adesso con il nuovo mister abbiamo un'identità, sappiamo il calcio che vuole lui, infatti si è visto, comunque siamo riusciti a risalire. Adesso non possiamo più sbagliare perché non ce lo possiamo permettere e sicuramente dobbiamo iniziare già da domenica a fare una gran partita per rialzarci ancora. rimaniamo in Serie B. La composizione dell'organico, io credo che dietro siamo a posto perché praticamente ho avuto pochissimo coli nel giorno di andata perché spesso è stato poco bene, all'inizio ho avuto dei problemi fisici, quando stava cominciando a prendere la condizione giusta ha fatto qualche partita titolare col Pescara, poi col Monza in Coppa Italia, ha avuto dei problemi fisici ed ha recuperato gli ultimi periodi, quindi è un giocatore in più che ci ritroviamo per il giorno di ritorno. Siamo a posto così, abbiamo anche Sfaltro che è un giovane che cresce a vista d'occhio, soprattutto allenandosi sempre con gente esperta come Vigari, Tomovic, e quindi sicuramente sta migliorando e sono convinto che siamo a posto così dietro. Sebastiano Esposito, ultimamente è rimasto un po' ai margini, c'è intenzione da parte sua, da parte della società di pensare ad una conferma oppure si è già optato, ormai si è già deciso di farlo ritornare a Vinter che poi deciderà il suo destino ed eventualmente domani potrebbe essere di concesso una chance. Io credo che il ragazzo sicuramente quest'anno è stato penalizzato dal ruolo, per come giochiamo noi, sicuramente non ha potuto esprimere le sue qualità e certamente nella sua testa probabilmente, adesso credo che abbiano deciso di andare via, ecco per cui secondo me di conseguenza proprio perché magari in altri posti può trovare una soluzione tattica a differenza dove può esprimere le sue qualità che sono tante, per cui sicuramente magari aspettiamo la fine del mercato, l'evoluzione dello stesso, però intanto è inorganico e però magari sappiamo da tempo che c'è la possibilità o la voglia di andare via, quindi magari punto più su quelli che hanno più probabilità di rimanere. Adesso scendiamo in Serie C, ovviamente andiamo in casa del Teramo, tornato titolare contro l'Avellino, il giovane centrocampista del Diavolo Federico Viero analizza il suo match contro gli Irpini e l'avvio di stagione per lui non facile. Fisicamente sto molto bene, da inizio anno forse è il momento dove sto meglio. Sicuramente è un mio limite perché ho avuto troppa foga nel voler dimostrare, nel voler attaccare questa partita in modo aggressivo, forse ho esagerato, però sono consapevole che ad oggi è il mio limite più grande e è la cosa su cui devo lavorare di più per migliorare. Il mister ha sicuramente ragione e purtroppo mi sono rovinato questa partita perché secondo me stavo facendo una buona partita e il mister è stato costretto poi a sostituirmi. Guarda, secondo me non fa differenza, io mi trovo molto bene con entrambi questi giocatori perché sono giocatori fortissimi e quindi con Arrigoni per il palleggio, con Santoro è una gamba che aiuta chiunque giochi vicino a lui, quindi sono giocatori fortissimi, mi trovo bene con loro e che sia davanti o che sia in mediana non mi cambia niente. Ti dico la verità, non ho mai approfondito questa cosa perché ho sempre dato più importanza a pensare a quello che stavo facendo e dove mi trovavo in quel momento. So con certezza che era vicino questa trattativa, molto vicina, però comunque so anche che sarei dovuto rimanere qui in prestito, quindi non mi sono mai sentito lontano da Teramo. È stato un inizio per me molto difficile anche prima dell'infortunio, però penso di avere parte delle colpe perché comunque da quando inizio anno ho visto che non rientravo inizialmente nei primi 11, non ho reagito nel migliore dei modi. Poi ho capito quello che mister voleva, quello che mi chiedeva anche parlando con lui e da lì penso di aver fatto comunque un miglioramento quotidiano negli allenamenti e di aver sempre dato tutto quello che avevo. Questo miglioramento mi ha portato ad oggi comunque a ottenere più spazio rispetto a quello che avevo prima e questo mi sta dando molta soddisfazione. A me il centrocampo 2 mi piace, mi piace che sia 2 o 3 appunto, ma non cambia. Sicuramente c'è da fare più sacrificio, ma comunque è un ruolo che mi entusiasmo perché hai più campo e hai più spazio a disposizione per poter esprimere il tuo gioco. Dall'anno scorso la cosa in cui sono cambiato di più è la costanza secondo me. Era un mio grande limite che non sono riuscito l'anno scorso a migliorare, invece quest'anno giorno per giorno riesco a tirar fuori il meglio di me e arrivo al campo disposto proprio al miglioramento, cosa che l'anno scorso invece diciamo che lasciamo un po' desiderare. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie per la visione!